Il Teatro San Domenico ha la ricerca di un nuovo consulente artistico ed apre un bando a livello nazionale. Il direttore artistico del teatro, il leccese Franco Ungaro, il cui contratto era già scaduto e prorogato, per troppi impegni non offre più la sua disponibilità. Rammaricato il presidente della Fondazione, Giuseppe Strada, che esprime tuttavia il suo ringraziamento. Dopo sei anni di felici programmazioni, di risultati importanti, di un percorso che ha visto il Teatro San Domenico crescere, fino a diventare un punto fermo e riconosciuto anche nella realtà teatrale nazionale, la collaborazione con il consulente artistico non viene confermata. Franco Ungaro ha comunque offerto la sua disponibilità ad accompagnare la Fondazione nella ricerca di figure di livello nazionale. Ungaro ha sempre creduto nel progetto Teatro San Domenico, prosegue il presidente Strada, adesso è strettamente legato, anche affettivamente, ed è proprio per non rischiare di inclinare un rapporto ottimale e di reciproca piena soddisfazione che ci ha espresso la volontà, se non il desiderio, di porre termine alla nostra collaborazione, pur con la convinzione che sapremo trovare altri terreni di incontro e di lavoro comune. Il contratto del nuovo direttore artistico vale 12.000 euro l'anno per il Bienno 2023-2025.